Il corpo è come un miracolo nostro, è stato sei anni qui dentro, sotto terra, quindi dove essere diventato polvere, invece l'hanno trovato intanto, quando hanno scavato chi è la Santa Rosa, come era fatti? Come lo fanno a riconoscere che era quella Santa Rosa? Perché il corpo era intanto molto riusciuto e poi non si rimane, non lo rende, ma stupida anche, c'era una rosa stupida, non lo realizzava la Santa Rosa. Quindi hanno preso il corpo di Santa Rosa, lo hanno portato ancora in una macchina di Santa Rosa, nella chiesa dove andremo noi adesso, lì ancora pensate allo stesso corpo di Santa Rosa, dopo il 1252 sono passati quanti anni? 800 anni e ancora intanto, intanto, passati 800 anni. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.